Nel nome del Madre e del Figlio e dello Spirito Santo Nel nome del Madre e del Figlio e del Figlio Nel nome del Madre e del Figlio e del Figlio Nel nome del Madre e del Figlio Nel nome del Madre e del Figlio e del Figlio e del Figlio Buonasera signora, buonasera.